Individuavano con cura auto da rubare per poi rivenderle a terzi o al legittimo proprietario mediante il cavallo di ritorno. 8 ordinanze di custodia cautelare eseguite dai carabinieri di Salerno nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore emessa dal GIP del Tribunale dottor Luigi Levita, custodia cautelare in carcere a carico di 5 persone ed arresti domiciliari a carico di 3 individui residenti tra le province di Napoli e Salerno, ritenute a vario titolo responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata al compimento di plurimi reati contro la persona e il patrimonio, nonché estorsione, ricettazione ed autoriciclaggio. Contestuali perquisizioni personali e locali sono state effettuate su delega della Procura della Repubblica a carico di altri 7 indagati in stato di libertà per i medesimi reati. Le indagini coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica, dottor Angelo Rubano, e dal Procuratore della Repubblica, dottor Antonio Centore, hanno preso spunto da elementi indiziari acquisiti nel mese di ottobre 2019 dai carabinieri scafati e della sezione radiomobile di Nocera Inferiore in occasione di un controllo e sequestro di un'autovettura rubata a bordo della quale viaggiava uno degli arrestati che procedeva a breve distanza rispetto ad un'altra autovettura occupata da tre complici, anch'essi arrestati oggi. Dallo sviluppo degli elementi investigativi documentati nella circostanza ed in particolare dall'estropolazione del contenuto degli smartphone nella disponibilità delle persone controllate e deferite, è scaturita un'articolata attività di indagine protrattasi nei mesi successivi attraverso la minuziosa ricostruzione degli episodi in cui gli indagati risultavano coinvolti. Tali attività hanno consentito di reperire gravi, molteplici e concordanti elementi indiziari circa l'esistenza di un'associazione per delinquere dedita stabilmente al compimento di plurimi furti di autovetture e al conseguimento di illeciti profitti attraverso la loro rivendita nel mercato occulto dei vicoli rubati, ovvero in alternativa la restituzione ai legittimi proprietari dietro pagamento di una quota estorsiva secondo il consueto erodato modello del cavallo di ritorno. Il sodalizio, composto da soggetti residenti a Scafate, Angre, Bosco Reale, Torrenunziata, Tersigno, Pompeccas e la Mare di Stabbia, operava permanentemente tra le province di Napoli e Salerno attraverso una suddivisione dei compiti e la creazione di uno spazio virtuale di circolazione interna delle informazioni e delle comunicazioni operative, inerente all'attività associativa costituita da una chat sulla piattaforma WhatsApp denominata dagli stessi partecipanti gli sfiammati. Individuato all'obiettivo utile, esso veniva asportato grazie alle abilità predatorie, al contestuale utilizzo di dispositivi elettronici in grado di acquisire il controllo delle componenti di bordo, bypassando la centralina, forniti da persone dotate di competenze specialistiche in materia residenti in provincia di Bari e che risponde a ragioni tale condotta di partecipazione al sodalizio. Il mezzo asportato veniva lasciato riposare per alcuni giorni in un parcheggio, altro luogo in cui non desse nell'occhio, per evitare il rischio di immediata localizzazione da parte del proprietario ed in seguito destinato alternativamente alla restituzione estorsiva, ovvero alla ricettazione. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti compiuti elementi di responsabilità circa la consumazione di 13 furti di autovettura, 16 episodi di ricettazione, 3 estorsioni e 2 casi di autoriciclaggio, consistiti nell'asportazione di dispositivi GPS al fine di impedire la localizzazione successiva alla sottrazione furtiva. Numerosi altri episodi sono tuttora in fase di individuazione e ricostruzione, prendendo spunto dalla cognizione solo parziale o frammentare a finora acquisitane. Grazie. Grazie.